jv 504 tie belè è un viaggio nei colori vivaci nelle immagini intense nelle fantasie del mondo africano è una collezione realizzata con diversi tnt stampati con varie tecniche che restituiscono differenti materialità ogni disegno si ispira una zona specifica dell'africa e racconta tutte le sfumature di questo viaggio nella collezione troviamo la ricchezza della foresta pluviale la geometria tipica delle case decorate a mano richiami al body painting tracce di graffiti primitivi oppure rimandi ad artigianato e medicina locale infine la raffia completa questa collezione che ne celebra la natura e la semplicità